E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Non c'è giorno che nelle 30 sedi di Confartigianato in provincia non vi sia almeno un incontro di aggiornamento tecnico rivolto a chi opera in una delle 36 categorie di attività che compongono il mondo dell'artigianato. Uno di questi, nei giorni scorsi, ha interessato gli odontotecnici. Il Centro Congressi di Confartigianato ha ospitato un importante incontro di approfondimento aperto alla partecipazione di odontotecnici e medici odontoiatri sull'evoluzione dei concetti implanto protesici e sui moderni materiali in uso odontoiatrico. Due categorie ben distinte di professionisti, quelle coinvolte, che operano però in stretta collaborazione. Un aggiornamento puntuale svolto di pari passo relativamente alle novità che vanno a migliorare il risultato estetico, benessere e sicurezza del paziente è condizione indispensabile per la qualità del servizio reso. A questi i requisiti nessuno è ovviamente disposto a rinunciare e sarebbe sbagliato pensare che una protesi valga un'altra. Tecnica e in particolare i materiali idoni e usati sono fondamentali per la salute del paziente. L'associazione è sempre attenta a quella che è l'evoluzione del mercato, nuovi materiali, nuove tecniche. Diciamo che così come la tecnologia sta andando avanti anche nel nostro mestiere bisogna restare aggiornati, bisogna continuare a stare al passo con i tempi. Quindi l'attenzione soprattutto per le nuove tecnologie ma anche quelle nuove tecniche che vengono richieste oggigiorno per esigenze estetiche, quindi esigenze di grandi riabilitazioni, esigenze di soddisfazione del paziente sotto tutti i punti di vista. Sala piena, cosa significa questo? Questa è una grande soddisfazione perché non è facile oggi avere le sale piene. Sala piena significa che si sta lavorando bene, che gli argomenti che sono trattati vanno incontro all'esigenza di chi sta di là, dalla parte della platea. E soprattutto vuol dire anche che stiamo azzeccando gli argomenti giusti perché in un mondo che cambia velocemente come abbiamo detto, ma c'è anche la globalizzazione, c'è l'importazione delle protesi dalla Cina piuttosto che dal Marocco. Vedere che c'è la sala piena vuol dire che si punta alla qualità. Si punta alla qualità, si punta a riuscire a dare un lavoro sempre più vicino all'esigenza della gente. Mai come in questo periodo sembra che si possa comprare tutto a basso prezzo, dalla bolletta del telefono all'i-fi. Nel settore dentale, nel settore medico credo che questo debba avere un attimo di attenzione diversa perché le offerte ci sono ma dobbiamo puntare alla qualità. Dobbiamo puntare sempre di più alla qualità perché stiamo parlando della nostra salute, non stiamo parlando di un paio di calzini che puoi cambiare, puoi buttare. È un qualcosa di più serio e la risposta che abbiamo ci dice che abbiamo ragione. Sempre più appuntamenti come questi coinvolgono odontoiatri e odontotecnici. Come dire che c'è bisogno di un gioco di squadra? Ma assolutamente. La giornata di oggi rispecchia quello che è il quotidiano, cioè medico e odontotecnico lavorano fianco a fianco ed è fondamentale che questa comunicazione, questo passaggio di informazioni sia il più esatto possibile per il risultato finale. Non dimentichiamo che il risultato finale è la riabilitazione protesica del cittadino.